Noi odiamo la Juve, noi odiamo il Verona, noi odiamo la Roma, forza magico il Milano e la Roma! Noi odiamo la Juve, noi odiamo la Juve, noi odiamo la Juve. Fra pochi giorni arriveranno le maglie nuove del Milan, quindi contattate Francesco, potete anche prenotarle, pagamenti alla consegna e oltre a tutte le maglie e le divise, le tute di tutte le squadre italiane, europee e mondiali, trovate anche vestiario di tutte le marche più importanti, Adidas, Nike e via dicendo. Descrizione video, Matteo Chiamente il Milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo, forza portiamolo a mille, mancano un centinaio di iscritti e tutti i miei social, compreso il gruppo Telegram. Allora ragazzi stamattina parliamo di mercato, perché ci sono un paio di discorsi da fare, Kamada, Love to check e Brahim Diaz. Allora, Kamada sarà il primo colpo e potrebbe fare le visite già i primi giorni della prossima settimana, subito dopo la partita col Verona. Quindi siamo in attesa, io personalmente sono in attesa di sapere un paio di cose il giorno delle visite, ma comunque Kamada sarà il primo acquisto per la prossima stagione del Milan. Un giocatore che probabilmente non è un giocatore appariscente, non è un giocatore dalla tanta visibilità, però è un giocatore funzionale ragazzi. Io sono convinto che questo calciatore darà tanto al Milan, perché è un ragazzo pronto, ha già fatto buone cose in Europa, arriva da una squadra che comunque fisicamente ha un modo di giocare molto fisico e sono convinto che si adatterà molto bene nel sistema tattico di Stefano Pioli. L'off to check, l'off to check potrebbe essere, anzi, vi dirò, l'off to check è il giocatore più vicino subito dopo Kamada. Il Milan lo vuole assolutamente, ballano un 5 milioni fra l'offerta del Milan e la richiesta del Chelsea, probabilmente ci si incontrerà a metà, fra i 17 e i 18, e Stefano Pioli lo vuole, lo vuole e attenzione ragazzi, l'off to check è molto meglio di Milinkovic Savic. Milinkovic Savic è un giocatore forte, ma quello che poteva dare lo ha già dato, Milinkovic Savic ha già fatto vedere tutto il suo repertorio. L'off to check è un giocatore che viene definito da tanti esperti inglesi come uno dei migliori centrocampisti della Premier. L'off to check è il classico box to box, è il classico giocatore che dà tanta fisicità, ma soprattutto ha tantissima qualità palla al piede. È un giocatore che non solo potrebbe sostituire che sì, ma potrebbe dare tanto di più. E ragazzi, io personalmente preferisco l'off to check. Ragazzi, abbiamo un buon rapporto con i giocatori che arrivano dalla Premier. Fictomori e comunque tutti i giocatori che arrivano dalla Premier in Italia fanno molto bene, guardate lo stesso Ebram e via dicendo. È un giocatore pronto, oggi arriva, domani può scendere in campo. Tatticamente Kamada potrebbe essere, non dico, un trequartista tipico, perché è un giocatore che probabilmente manca un po' nell'ultimo passaggio. Però ha tanti gol e ha tanta visione di gioco. Tanta, tanta visione di gioco. È un playmaker avanzato importante. Kamada è un giocatore che veramente potrebbe essere la svolta in quella zona di campo. L'off to check può giocare anche in quella posizione, però, attenzione, perché avere un centrocampo con Tonali e l'off to check sarebbe un upgrade fisico importante. In attesa del ritorno del Bignor Benassert. Ragazzi, di Benassert si parla di un sei mesi di stop, quindi potrebbe rientrare poco prima della Coppa d'Africa e poi partire in Coppa d'Africa. Quindi potrebbe mancare per un lungo periodo Ismail Benassert. Lo aspettiamo e non vediamo l'ora che torni, però il Milan ha bisogno di fare cose importanti. E comunque sia Kamada che l'off to check sono due giocatori spendibili anche in quella zona di campo. Ragazzi, discorso Brahim Diaz. L'arrivo di Kamada, soprattutto, e il mantenimento di Charles de Ketlare potrebbe voler dire l'addio di Brahim Diaz. Oggi Brahim Diaz è più al Real Madrid che al Milan, anche se il giocatore vorrebbe restare. Però attenzione, a livello tattico Brahim Diaz lo abbiamo visto. È un giocatore che comunque, pur avendo dato il suo grande contributo nelle ultime due stagioni, comunque fatica molto. Fatica molto. Quindi il Milan, se trovasse un giocatore importante sulla destra, anche magari a meno soldi rispetto a Brahim Diaz, potrebbe evitare la spesa Brahim Diaz, che all'incirca costerà 20-22 milioni, e provare a prendere un altro giocatore in quella zona di campo. Attenzione al giocatore Kosovaro del Lille. Adesso, ragazzi, io non me lo ricordo mai come si chiama questo, però è un prospetto importante, un giocatore di gamba, un giocatore che può portare gol. È un giocatore molto offensivo e l'arrivo di questo giocatore potrebbe voler dire anche l'addio di Junior Messias. Io penso che Junior Messias, quello che doveva dare a dato, è un giocatore che sicuramente in alcuni momenti è stato importante, però lo vedo lontano, lontano dal Milan. Sulla sinistra si cerca un'alternativa a Rafa Leao. Il Milan sta cercando di capire le offerte per Divock Orighi, però, come vi dicevo da tempo, il Milan valuterà solo offerte intorno ai 10 milioni. Tutto quello al di sotto dei 10 milioni farà trattenere Orighi e quindi Orighi potrebbe essere l'alternativa a Rafa Leao e una giunta per l'attacco del Milan. Lì davanti, ragazzi, si fanno nomi su nomi, ma in questo momento né Open D'A, né Scamacca sono i giocatori che potrebbero arrivare. In questo momento sono lontani dall'essere vicini dal Milan. Allora, io penso che il Milan debba fare i giocatori di centrocampo subito, in maniera da poter ridare a Stefano Pioli immediatamente. Per l'attaccante ci vuole un po' più di tempo. Secondo me l'attaccante sarà uno degli ultimi colpi che farà il Milan. Potrebbe arrivare, non dico negli ultimi giorni di mercato, ma a mercato inoltrato. Soprattutto quello giovane. Il Milan vuole valutare bene e scegliere bene l'attaccante per il futuro. Perché, attenzione, non si sta cercando un attaccante solo per la prossima stagione. Anzi, probabilmente l'attaccante principale della prossima stagione che arriverà sarà proprio un attaccante più esperto, magari un parametro zero, comunque un giocatore che costi poco, con un'età un po' più avanzata. Mentre invece il giovane sarà soprattutto un giocatore che avrà il tempo comunque di crescere e diventare importante anche per gli anni futuri. Il Milan sta cercando un ragazzo giovane che possa diventare l'attaccante del Milan per 4-5 anni. Quindi la scelta sarà importantissima. Non bisogna pensare solo a domani. Bisogna pensare anche a dopodomani. Quindi potrebbe arrivare un attaccante un po' più esperto, con la grande spesa del mercato che sarà l'attaccante giovane, un attaccante che abbia già fatto vedere cose buone, però comunque un giocatore che avrà anche il suo tempo per crescere. Il Milan ha ragione in questi termini, ragazzi. Non pensate a spese folli perché non ci saranno spese folli. Il Milan piuttosto che spendere 30-35 milioni per Milinkovic-Savic preferisce andare su un giocatore straniero che abbia giocato in un campionato importante e che non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale. Ragazzi è un dato di fatto che Sergei Milinkovic-Savic il suo potenziale l'ha già fatto vedere, quello che poteva dare ha dato. E ripeto, secondo me è un giocatore che probabilmente andrà fuori dall'Italia a prendere molti più soldi. Io non vedo Milinkovic-Savic ancora nelle grandi serie A. Io lo vedo più proiettato verso la Premier. Ragazzi, per quanto riguarda gli altri ruoli, allora Parisi è un giocatore che al Milan piace, però difficilmente il Milan spenderà 15 milioni per l'alternativa a Teo Hernandez. Secondo me sarà più facile vedere un altro tipo di giocatore, magari un prestito con diritto di riscatto e vediamo un po'. Chiaramente quando si parla di giocatori giovani il Milan cerca di stare attento, magari cerca di non pagarlo subito e ci sta tutto. Allora ragazzi, facciamo un discorso. Allora, ieri sono andato a commentare su Instagram la foto che vi ho messo anche in community, con Pellegrini che dicevano che ci dicono che facciamo le barricate, mettiamo i pulmi davanti alla porta e noi ce la ridiamo. Allora, a prescindere da barricate, non barricate, altre minchiate. Quando ho commentato mi avete scritto siete arrivati solo noi, ci giochiamo. Le finali si vincono. Quando non le vinci non contano un cazzo. Quindi, cari i miei romani, non solo avete perso la finale della Coppa che a Milanello o al Museo del Milan possiamo al massimo usare per metterci le noccioline, perché l'Europa League, le Coppe Italia al Milan servono per metterci le noccioline dell'aperitivo. Noi o Champions o niente. Ma soprattutto, non farete la Champions, siete arrivati dietro e via dicendo, e avete anche il coraggio di fare chiacchiere. Romano! Bastardo! E niente, ragazzi, il video di stamattina era questo. Adesso aspettiamo il 10 di giugno che ci sarà un'altra finale. Ci speriamo tutti quanti che l'Inter non vinca, però poi alla fine me ne frega un cazzo a me, sinceramente. Non sarò contento, non sarò triste, però insomma, frega un cazzo alla fine. Sono stato contento invece che ieri la Roma non sia riuscita a vincere l'Europa League. Di quello sono stato veramente contento. E niente, ragazzi, vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso-nero. Ricordatevi, su questo canale ti fa la vecchia maniera. Noi siamo vecchio stampo. Adesso testa al Verona, perché a prescindere dalla Serie B del Verona, se il Mina riuscisse a scavalcare l'Inter, e l'Inter chiaramente oggi la testa ce l'ha proiettata alla finale, se il Mina riuscisse a scavalcare l'Inter, gli altri dovrebbero stare solo zitti. Ciao a tutti! Oh, a Cina! Dico che siamo tutti i delinquenti, solo per me ci canse parecci denti, se ci saranno scontro, sarà le pade, e manderemo tutti.